A Bogal City la notte è ancora giovane e mi spettò il caso che invece è già avanti con gli anni non si intira indietro quando deve intervenire, buttandosi su un nuovo caso, il suo. La sera prima Piras mi fece perdere la pazienza e nonostante mi misi a cercarla la trovai solo dopo due giorni che giocava a Mosca Cecca con la gattina frettolosa che aveva fatto i micini cecchi e slovacchi, ma ne aveva fatto anche uno che sapeva le parolacce in russo. Appena addormentato una musica di sottofondo suonava nel piatto messo lì a cazzum, ho sempre amato il latino, dalla mia maggiordomma un'automa che in casa fa tutto, spolvera, prepara da mangiare i micini cecchi che ogni tanto recuperano la vista ma che appena la vedono tornano cecchi. Una volta fece persino mangiare i pesciolini dalla rana che dopo un po' li vomitò perché erano dei robot, lei digerisce solo il mio vicino, forse perché lei è simpatico. Una volta i pesciolini gialli dell'acquario diventarono rossi quando la sentirono parlare in quel modo colorito del papagallo colorato, smisero di diventare rossi quella volta che li ritrovai morti affogati perché si persero in un bicchier d'acqua. La maggiordomma da vestita era orribile ma da nuda non era niente male e a fatica riuscivi a capire se si trattasse di un'automa o di una donna vera. Lo capivi solo dal fatto che lei da quando la accendevi fino a quando la rimettevi a caricare aveva sempre lo stesso umore, solo da questo fatto capivi che non era umana. Mi rigiravo nel letto dove ritrovai anche un mio vecchio cavallo a dondolo che tentava in vano di convincere la cassiera del cinema che durante la proiezione del film non avrebbe parlato. La mia anima era tormentata dal mio assistente che mi rompeva l'anima tutte le volte che poteva e lui sapeva come fare, come in quell'occasione che mi chiese di porgergli l'altra guancia perché la prima se l'era presa una delle mie ex assieme all'armadio quattro stagioni. Me lo restituì quando scoprì che dentro non c'erano né le olivette nere, tanto meno il prosciutto cotto. Sul piatto della bilancia continuava la musica, bilancia che oltre a dati il peso ti diceva quanto un pezzo musicale poteva essere pesante. In questo caso da 1 a 10 questo era 11 di una palla che si era dissociata dall'altra, infatti il pezzo in questo modo era diventato palloso. Due palle invece le faccio solo a chi mi sta ad ascoltare per più di 5 minuti. Quel giorno non volevo svegliarmi e Piras era già alla 34esima telefonata ed io continuavo a non rispondergli, lui continuava a chiamarmi ed io continuavo a non rispondergli e lui continuava a chiamarmi. Sembravamo due fidanzatini che si erano appena litigati. Una situazione alla quale non sapevo dare un nome ma solo un cognome, Piras. Di fatto però io tenevo a lui e lui teneva a me e ai fondi di caffè che gli leggeva una vecchia maga. Maga dilettante visto che una volta al padre gli disse che sarebbe morto dopo 10 anni, invece morì solo dopo 5. Lui tornò dalla maga per dirle di quell'orrore grossolano perché d'altronde uno si deve poter togliere anche le proprie soddisfazioni. Mi svegliai per un attimo e vidi che da un angolo del soffitto scendeva una muffa che stava lì da mesi. Avrei dovuto tagliarla e metterla a bollire poiché stavo cercando di diventare vegetariano. Il cibo, in un flashback, mi riportò all'infanzia. Ricordavo quell'odorino che arrivava dal mare, che non era quello dello iodio, bensì quello del maialetto di 6 chili, bello tenero, che l'unico iodio che sentiva era quello del sale, che gli gettavano addosso per rendergli la cotenna più croccante. Lui sì che aveva più di una ragione per nutrire dello iodio nei confronti degli umani. Mi ricordavo dei chioschetti che appartenevano agli amici dei miei genitori, tanto che potevi tranquillamente prendere una bibita o un gelato per poi affermare con orgoglio «Poi passa mamma a pagare!» Che figata! Una volta anche mia madre si lanciò in un «Poi passa mia madre a pagare!» Al che il proprietario disse «Ma non era morta?» Mi venne anche in mente quella chitarra elettrica che mi regalarono per Natale e che io suonai per più di vent'anni, per poi accogermi che a casa nostra non avevamo la corrente, di corrente avevamo solo l'acqua. Una volta mio padre cercò anche di far funzionare il phon con l'acqua corrente, ma i capelli di mia sorella rimasero bagnati. Provò allora ad usare il casco, ma quando lei se lo lasciò anche per entrare in banca, l'arrestarono. Mi giravo e rigiravo. Ricordavo di quel negozio di scarpe che aveva delle vetrine con dentro tantissime scarpe che io desideravo, ma che non potevo permettermi. Solo dopo otto anni di risparmi finalmente entrai per acquistarne un paio. Le mie preferite erano quelle gialle a pua verdi che indicai alla commessa e lei oltre il numero mi chiese anche il prefisso. Per il trauma fece una seduta dall'analista e una in piedi dallo psicologo. Sudavo al ricordo del locale sette sposi per sette zittelle, dove forse sarei tornato, non appena le ustioni di quarto grado della scala del mercato di San Benedetto si sarebbero sgonfiate. Ustioni provocate dalla bionda che durante l'interrogatorio alla mia domanda ha da accendere, lei mi scaricò addosso tutto il suo lanciafiamme portatile. 25 litri di alcol puro al 100%, firmato Focus. Quello che le rimase lo adoperò per farsi il mirto in casa. Da quel giorno ho smisi di fumare. Ci fidanziamo per un breve periodo. Le si sposò dopo appena un giorno, non appena seppe che la tradivo con una tacapanni. Quello che per tutta la sera mi aveva fatto gli occhi dolci. Sogno o son destro? Risposi. Sono Piras. Ispettore, hanno ucciso il nonno in bagno. Chi sia stato non si sa. Questa frase mi ricordava qualcos'altro, ma su questo avrei investigato un'altra volta. Tornai a dormire. Avevo un sogno, ma ormai l'avevo dimenticato. Riuscirà l'ispettore Casu a destarsi e riprendere, a dare la caccia, oltre che i suoi incubi, anche i criminali di Bogart City? Alcuni anche peggiori dei suoi incubi? Lo sapremo nella prossima avventura.